Nel guardarmi a volte c'è uno strano interrogativo nei suoi occhi. Se si tratta del mio amore alla risposta, non esiste nessun altro per me. E mai esisterà. È così silenzioso. Ma non è facile trovare parole per le forti emozioni, anche se io sembra averle trovate. Ho compresso i miei sentimenti così a lungo che dovevo dirli o esplodere. Non hai idea delle cose che immaginavo che le avrei detto. Jeffrey ha detto una volta che la misura dell'amore è quella a cui si è disposti a rinunciare. Per questo Stephen distrusse la sua auto per me. Un magnifico gesto, ma ci ha ripensato. Stephen non se ne è accorto, ma recuperando la macchina è come se mi avesse lasciata libera. E lei a che rinuncerebbe? È quello che mi domando anch'io. Alla vita, per esempio. rinuncerebbe alla vita. Sì, lo farei. Morirei per lei senza alcuna esitazione. Lo so che sembra assurdo, ma ci ho riflettuto ed è vero. Darei la mia vita per lei. È la misura del mio amore. E lei a cosa rinuncerebbe? Alla mia redenzione. Questo è anche più che la vita. e le non ci ho rifletterebbe. Alla mia vita per lei. Grazie.